Oggi ridiamo di pregiudizi, giudichiamo le persone che hanno solo vizi e loro rancone fa nascere solo invidia da parte di persone che sono al top della propria e fanno un figurone per nominarti da lì, godendone la loro maestria di essere più fedele e simpatia. Oggi viviamo nel benessere, tramandato dai nostri amici, combattendo santilosi e guerre, continuando solo alla mano, facendo capire l'importanza del vivere in fratellanza che non si ottiene nottanto, ma vivendo almeno, stando in pace con se stesso. Io siamo completamente invencati, la paz che ha portato, che non si è rancato e non si è rancato, e le torture che hanno sfidato, i nostri partitori più adaci, perché reclamavano giustizia, perché volevano una grande patina, perché volevano una giustificazione, perché pretendevano un trattato di ignoro, perché pensavano un'unica figlia, io non mi tenessero scontato, ma è vero essere male, in condizionato stato più, in coscienza del gestito, non riuscivo più a capire, come un'unica figlia, il clima si sta battendo, con un ruolo di contento, continuo a essere accertato, nelle scelte del reale, vivendo senza il viola e le passioni, o quindi il risultato di lavoro, mi interessa da poche persone, che hanno un solo scontro. Monopolizzare il nostro territorio 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 Nella moderna, frutto di un progresso esagerato, nel corso del pianeta Terra, sta per essere completamente mutato.